Ciao a tutti e bentornati a Pigliole di Storia. Bentornati alla nostra serie dedicata alla storia dell'Armenia, dell'Azerbaijan e ovviamente della guerra del Nagorno-Karabakh. Siamo arrivati all'ultima puntata, l'ultima puntata di questa lunga serie e dopo aver raccontato nella scorsa la guerra del 2020, la seconda guerra del Nagorno-Karabakh, oggi andiamo a raccontare gli ultimi anni. Mi anticipo già che sarà un racconto difficile, sarà un racconto difficile perché se era difficile trovare informazioni sugli anni precedenti, su questi ultimi anni è difficilissimo. Si trovano praticamente solo affermazioni contrastanti fatti da Armeni e Azeri che affermano cose che a tutti gli effetti la controparte smentisce. Quindi cercherò di darvi un quadro il più possibile oggettivo ma ogni tanto dovrò dirvi questa è quanto riportato dalle fonti armene e questo quanto riportato dalle fonti azzere. Quello che si vedrà in questa narrazione, ve lo anticipo già, sarà che il passaggio tra la guerra del 2020 e gli ultimi avvenimenti di poche settimane fa non è stato un passaggio improvviso, ma frutto di tutta una serie di eventi che purtroppo, come si capisce benissimo dalla narrazione, in realtà non si arrestano, almeno non sembrano volersi arrestare con la conquista del Nagorno-Karabakh da parte degli Azeri, ma sembrano voler continuare. E speriamo, io ho registrato ovviamente questo video qualche giorno prima di quando voi lo vedrete, che fino al momento in cui voi lo vedrete tutto questo sarà smentito, ma purtroppo vedremo come andranno le cose. L'altra cosa che si capirà, e lo vedrete poi durante la narrazione, è quanto gli avvenimenti di questi anni in Armenia e in Azerbaijan siano legati agli avvenimenti che riguardano la Russia, in particolare la guerra con l'Ucraina e come quella guerra, oltre a destabilizzare ovviamente l'Ucraina, abbia destabilizzato anche questa zona del Caucaso. Insomma, cercheremo di parlare nella maniera migliore possibile, quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare. La fine della seconda guerra del Nagorno-Karabakh aveva lasciato una marea di problemi. Innanzitutto aveva lasciato tanti morti, aveva lasciato circa 3.000 morti tra gli azzeri, circa 4.000 morti tra gli armeni, e purtroppo molti di loro erano civili che erano stati colpiti dai bombardamenti, sia da una parte che dall'altra. Aveva lasciato una marea di sfollati, perché come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, con l'armistizio siglato nel novembre del 2020, la repubblica separatista dell'Arzac aveva sì accettato che gli azzeri riprendessero il controllo dei territori che avevano riconquistato, ma in più aveva accettato di ritirarsi da tutta una serie di territori che aveva conquistato all'inizio degli anni 90, al di fuori del territorio del Nagorno-Karabakh. Territori che quando aveva conquistato erano abitati prevalentemente da azzeri, questo è ovvio, ma che quando erano stati conquistati dagli armeni erano stati abbandonati dagli azzeri, che erano fuggiti diventando profughi, si parla di quasi 100.000 persone che avevano lasciato le terre conquistate dall'Arzac, azzeri che ora ovviamente tornavano nelle loro terre e armeni, che così come erano arrivati alla metà degli anni 90, ora erano costretti ad andarsene, perché ovviamente quelle terre non erano state lasciate abbandonate, spopolate, armeni vi si erano trasferiti, altri già vivevano lì, perché non è che la separazione fosse stagna, le popolazioni erano mischiate, e tutti questi armeni, in gran parte questi armeni, furono costretti a lasciare loro terre e a farlo peraltro in pochissimi giorni, perché l'Ezerbaijan è concessa agli armeni pochissimi giorni per andarsene, e così grandi masse di popolazione portandosi dietro tutto quello che avevano, quello che potevano dei loro averi, dovettero lasciare queste terre per spostarsi come profughi, qualcuno nel Nagorno-Karabakh, altri nella vicina Repubblica d'Armenia. Oltre a tutto questo, in realtà questa guerra aveva lasciato aperta una marea di questioni. Ora, sulla carta per cercare di vigilare sulla pace, sul mantenimento di quest'armistizio, c'erano i russi, russi che, come degli accordi, avevano mandato circa 2000 soldati, 2000 uomini che, disponendosi in parte nel corridoio di Lakin, quindi in quel passaggio che permetteva di passare dall'Armenia al Nagorno-Karabakh, ora vitale, perché qualunque altra connessione aperta negli anni era stata ovviamente persa, russi che si erano disposti all'interno dell'Arzak, che si erano disposti in varie zone di frontiera, russi che però fin dall'inizio non riuscirono a mantenere realmente la pace, perché scontri di confine ripresero, pensate, già solo un mese dopo la firma dell'armistizio, nel dicembre del 2020. A questi russi, dopo pochi mesi, si andranno ad affiancare anche dei turchi, che vennero a stabilire una loro base mista insieme ai russi proprio al confine fra i due stati. Una base, ovviamente, vista malissimo dagli armeni, che credevano che i turchi fossero lì per aiutare gli azzeri, ma che i turchi giustificarono dicendo di essere lì per aiutare lo sminamento di quelle zone e il ripristino della situazione precedente. Fin dall'inizio, poi, i punti focali su cui si concentrarono i nuovi scontri furono due. Il primo erano i collegamenti, collegamenti che ormai erano diventati vitali. C'era il collegamento, lo abbiamo detto appunto, tra l'Armenia e l'Arzak, questo corridoio di Lakin, che rappresentava un vero e proprio cordone umbilicale che permetteva all'Arzak di sopravvivere, perché all'Arzak arrivavano attraverso quello stretto corridoio la corrente, il gas, arrivava internet, arrivavano rifornimenti, arrivavano medicinali, tutte cose che non potevano arrivare in altro modo perché l'Arzak ormai era completamente isolato e perché, anche se teoricamente a Stepanakert c'era un aeroporto, quell'aeroporto non era utilizzabile, dato che gli azzeri da anni minacciavano che qualunque volo fosse arrivato a Stepanakert e loro lo avrebbero abbattuto. Quello però non era l'unico collegamento, perché gli azzeri di collegamento ne avevano in mente anche un altro, un collegamento molto più a sud, che nella loro testa doveva servire per mantenere il contatto tra loro, tra il grosso dell'Azerbaijan e la loro esclave, cioè il Nakchivan. Ora, è un po' che non parliamo di questa zona, ma in realtà questa zona rimaneva fortemente nella mente degli azzeri, vuoi anche perché la famiglia di Aliyev proveniva proprio da quella zona, la famiglia del Presidente Azzero proveniva da quella zona. Negli accordi di pace del novembre del 2020 c'era, tra i vari punti, anche la garanzia da parte degli armeni, della Repubblica d'Armenia in questo caso, quella con capitale Yerevan, di mantenere aperti i collegamenti tra l'Azerbaijan e il Nakchivan. Ma ben presto questo collegamento agli azzeri non bastò più, perché iniziarono a chiedere espressamente che così come i russi garantivano un corridoio in territorio formalmente a zero tra l'Arsacche e l'Armenia, così garantissero un corridoio, gestito in questo caso dagli azzeri, che attraversasse il sud del territorio armeno. Un corridoio, il corridoio di Zagzegurt, spero di averlo pronunciato bene, che teoricamente avrebbe potuto diventare una vera e propria autostrada che attraverso il Nakchivan connettesse la Turchia, Ankara, a Baku, quindi connettendo i due lati, i due paesi alleati. Il secondo problema era invece relativo ai confini, perché fino a che la Repubblica separatista aveva occupato buona parte delle province dell'Azerbaijan occidentale, ovviamente il confine tra l'Azerbaijan e la Repubblica d'Armenia era stato molto piccolo. Ma ora che quei territori erano tornati all'Azerbaijan, nuovamente si tornava a discutere di quale dovesse essere il confine reale tra le due repubbliche. Due repubbliche che erano nate dal dissolvimento dell'Unione Sovietica, ma che si erano trascinate dietro tutta una serie di dispute sui confini, talvolta anche per parecchi chilometri, dispute che ovviamente nel periodo sovietico non erano mai state sanate, perché, dato che si trovavano all'interno della stessa confederazione, a nessuno interessava definire così precisamente quale fosse il confine. Se ci pensate, qualche puntata fa abbiamo raccontato qualcosa di simile relativo al confine tra la Croazia e la Serbia attuale. Anche qui un problema che ci si porta dietro dalla Federazione Jugoslava. Bene, su quel confine entrambi gli stati iniziarono a dire di avere ragione. Iniziarono a mostrare delle cartine, alcune di epoca sovietica, alcune più vecchie, cartine che ovviamente spostavano il confine verso ovest per gli azzeri e verso est invece per gli armeni, con il risultato che su quel confine iniziavano ad esserci scontri, prima molto limitati, talvolta che riguardavano i civili, con soprattutto forze militari azzere che iniziavano a tracciare dei confini o entravano in territorio armeno, dicendo di farlo semplicemente per meglio definire il confine, e che talvolta attaccavano anche singole case, piccoli villaggi armeni di confine, in alcuni casi anche con delle sparizioni, delle violenze e anche qualche morto. Ora voi direte, ma in una situazione del genere, che cosa stava facendo l'Armenia? Beh, l'Armenia si trovava in grossa difficoltà. Si trovava in difficoltà innanzitutto dal punto di vista politico, perché il suo presidente Pashinyan aveva ovviamente preso una mazzata terrificante dal punto di vista politico, dalla sconfitta del 2020, era stato attaccato, vi erano state manifestazioni perché aveva accettato la pace con gli azzeri, e tutto questo ovviamente aveva fortemente indebolito la sua posizione, posizione che era stata ancora più indebolita quando Pashinyan si era reso conto che i russi in realtà non lo stavano supportando, perché pur continuando ad essere due stati alleati, i russi, ad una prima chiamata per cercare di intervenire presso gli azzeri, si limitarono semplicemente ad avanzare delle richieste senza fare null'altro. Ma d'altronde l'Ucraina iniziava a farsi sentire, tra poco vedremo anche meglio perché. Anche questa volta però i toni, invece di abbassarsi, iniziarono a crescere sempre di più, con addirittura il presidente Aliyev, che giunse a definire l'intera Armenia come un territorio facente parte dell'Azerbaijan per motivazioni storiche. Per il passo successivo però bisogna aspettare un anno. Nel settembre del 2022, infatti, gli azzeri tornano all'attacco dell'Armenia, e invece delle piccole scaramucce di confine che si erano avute fino a quel momento mettono in piedi una vera e propria invasione, che porta in due giorni, tra il 12 e il 13 settembre del 2022, le forze dell'Azerbaijan a penetrare per alcuni chilometri del territorio armeno, occupando alcune posizioni di confine e addirittura alcuni villaggi. Una cosa che ovviamente provoca la reazione dell'esercito armeno, che inizia a combattere, a bombardare a sua volta quello a zero, e porta a degli scontri che, tra quel 12 e 13 settembre fino al 16, quando più o meno la questione viene ristabilita, porteranno alla morte di quasi 300 persone. In questo caso, voi direte, perché la Russia non intervenne? Beh, perché le condizioni erano cambiate, questo gli azzeri lo sapevano benissimo. Pochi giorni prima che gli azzeri lanciassero il loro attacco, la Russia aveva iniziato a subire la prima vera controoffensiva ucraina, quella della fine estate, inizio ottuno del 2022, la controoffensiva che a tutti gli effetti permise agli ucraini di riconquistare molto territorio, una controoffensiva che aveva messo in crisi l'esercito russo, che sicuramente non aveva nessuna possibilità di intervenire nel Caucaso. Tanto che quando il premier armeno Pashinyan chiese ai russi di intervenire militarmente, ancora una volta per fermare gli azzeri, questa volta i russi fecero, se possibile, spallucce ancora più grandi, perché sostanzialmente dissero che gli azzeri non stavano invadendo l'Armenia, ma solo consolidando alcune posizioni, cioè quella che a tutti gli effetti era la posizione degli azzeri, mentre gli armeni dicevano che gli azzeri erano penetrati per molti chilometri e avevano addirittura appunto occupato dei villaggi. Ma perché Baku stava facendo tutti questi attacchi? Perché stava continuando a tenere sotto aggressione l'Armenia? Che cosa voleva ottenere? Beh, voleva ottenere principalmente due cose. Il primo era minacciare gli armeni, far capire loro che in ogni momento avrebbero potuto attaccare, che le loro forze armate non erano adeguate nella difesa, che non sarebbero riusciti a fermare l'Azerbaijan, e cercare in questo modo da una parte di obbligarli a disinteressarsi il più possibile del Nagorno-Karabakh, dall'altra tramite quelle minacce cercare di obbligarli a concedergli il corridoio che volevano loro a sud appunto con il Nacchivan. Il secondo obiettivo era ovviamente quello di provare quanto potevano spingersi oltre, provare a capire dove fosse il limite, dove qualcuno un giorno sarebbe intervenuto a fermarli, e capire se veramente avrebbero potuto provare l'ultimo colpo, cioè l'assalto all'Arzak. Bene, anche quegli attacchi contro l'Armenia non avevano sortito effetto. Perché? Perché, vi l'ho detto, la Russia non era intervenuta, ma perché anche l'Occidente, che era tutto concentrato sull'Ucraina, non era intervenuto. E a parte qualche monito, qualche Stato, che aveva espresso la richiesta all'Azerbaijan di fermarsi, nessuno aveva minacciato di intervenire. Insomma, a Baku, ormai avevano capito, che, se avessero fatto il tutto in tempi rapidi, avrebbero potuto fare quello che volevano. L'ultima fase inizierà il 3 dicembre del 2022. Ufficialmente le cose andarono così. Un gruppo di attivisti ecologisti provenienti dall'Azerbaijan si presentarono al passo di Lakhin e chiesero di controllare il passaggio dei camion. Perché? Beh, dissero di essere ecologisti. Dissero che nelle Nagorno-Carabacchi, in alcune miniere, si estraevano dei materiali con delle tecniche che danneggiavano l'ecologia locale, danneggiavano l'ambiente, e che questo non era accettabile. Perché ovviamente questo avrebbe esposto a rischi tutte le popolazioni intorno. Erano veramente ecologisti? Molto probabilmente no. La certezza non c'è, ma diciamo che la stragrande maggioranza degli analisti sono sicuri che quelli non erano ecologisti, ma erano semplicemente degli inviati del governo di Baku, che aveva scelto poliziotti, amministrativi, gli aveva messo dei cartelli in mano e gli aveva mandati a organizzare questa protesta. Quella protesta, però, venne sfruttata molto rapidamente dagli azeri, che, con la scusa di voler controllare veramente se ci fossero di questi problemi, organizzarono un posto di blocco nel Corridoio di Lakin. E dopo aver organizzato il posto di blocco nel Corridoio di Lakin e bloccato qualunque tipo di passaggio di rifornimenti da e verso l'Arzak, spinsero addirittura in Russia a fare la stessa cosa. Come? Certo, prendendogli gli ecologisti, i finti ecologisti, e mandandoli verso l'Arzak, con il risultato che il contingente russo lì di stanza fu costretto a sua volta a creare un posto di blocco per impedire questo passaggio. E in tutto questo permettere così all'Azerbaijan di poter dire che a bloccare il passo di Lakin non erano loro, ma erano i russi, il contingente di pace russo. Ora, che cosa voleva dire bloccare quel passo? Voleva dire a tutti gli effetti tagliare fuori l'Arzak dal resto dell'Armenia. Voleva dire che da quel momento quel territorio così isolato venne sottoposto ad un blocco quasi totale. Smise di arrivare il gas per molto tempo, addirittura fino a marzo del 2023 il gas quasi non si vide all'interno del Nagorno-Karabakh. L'elettricità iniziò ad arrivare a giorni alterni, venne tagliato internet, vennero tagliati i rifornimenti di cibo, vennero tagliati i rifornimenti di medicinali, addirittura vennero separate intere famiglie perché chi provenienti dal Nagorno-Karabakh si trovava in quei giorni a passare del tempo in Armenia non riuscì a tornare. Addirittura per alcune settimane un gruppo di bambini che aveva fatto una visita a Yerevan non poté tornare dalle proprie famiglie bloccate dai posti di blocco azeri e lentamente questo posto creato iniziò a strangolare l'Arzak, iniziò a strangolare il Nagorno-Karabakh portandolo alla disperazione, al freddo e alla fame. In molti hanno cercato di definire questo blocco in vari modi. Da punto di vista dell'Azerbaijan è una cosa che era assolutamente accettabile, che non ebbe nessun effetto sulla popolazione. In realtà chi ha viaggiato in quelle zone all'inizio del 2023 ha parlato di un vero e proprio tentativo di genocidio con la popolazione locale che si trovava ad avere scarsissime disponibilità di cibo, a non riuscire a scaldarsi, a non riuscire a produrre praticamente nulla, costretta alla disperazione per farla cedere. Anche questa volta sia i russi che l'Occidente fanno poco. L'Occidente se ne dimentica, forse arrivano ancora meno lamentele rispetto a quante ce n'erano state l'anno precedente, i russi non fanno ancora una volta praticamente niente. Anzi, gli unici che riescono ogni tanto a forzare il blocco degli Azeri per far arrivare dei rifornimenti sono i camion della Croce Rossa internazionale. L'Armenia, o meglio il suo presidente Pashinyan, a questo punto capisce che sulla Russia non può più contare, che la Russia è troppo assorbita dalla guerra in Ucraina per poter fare qualcosa e decide di fare un passo diverso. Lui, che era sì salito al potere, lo abbiamo raccontato, abbattendo un presidente fortemente filorusso, ma che lo aveva fatto promettendo di rimanere su quella strada dal punto di vista politico, alla metà del 2023 decide di iniziare a guardarsi in tonno, di iniziare a guardare verso l'Occidente e di chiedere la protezione dell'Occidente. Ora, io non sono un politico, quindi ovviamente non mi posso forse permettere di giudicare questa sua scelta, ma a posteriori, per quanto fosse una scelta disperata e forse l'unica ancora possibile, dato che ormai era evidente che i russi non avessero nulla da offrirgli, fu una scelta probabilmente sbagliata. Perché se i russi erano tanto assorbiti dalla guerra in Ucraina, la stessa cosa succedeva all'Occidente, con in più l'aggravamento che l'Unione Europea, che aveva tagliato i suoi collegamenti con la Russia per quanto riguardava il gas e il petrolio, aveva un bisogno enorme dei suoi collegamenti con l'Azerbaijan e finché non fosse successo qualcosa, sicuramente non si sarebbe messa contro Baku. Il risultato è che in questo modo infilò semplicemente la testa dell'Armenia in una gigantesca tagliola e quella tagliola scattò il 19 settembre del 2023, cioè poche settimane fa. In realtà quest'ultimo conflitto, qualcuno lo chiama Terza Guerra del Nagorno-Karabakh, qualcuno non lo nomina neanche perché durò veramente molto poco, fu a tutti gli effetti un conflitto rapidissimo. Il 19 settembre le forze dell'Azerbaijan invasero quello che ancora rimaneva della Repubblica Separatista dell'Artsakh e lo fecero con una velocità senza precedenti. La loro superiorità tecnica, militare, numerica era ormai completamente sbilanciata. Il risultato fu che le forze di difesa dell'Artsakh vennero letteralmente travolte, con il governo che si affrettò a chiedere un nuovo armistizio, a chiedere agli azeri di fermarsi, ricevendo come unica risposta l'obbligo a annunciare la fine della Repubblica Separatista, la riannessione dell'intero territorio all'Azerbaijan in cambio della pace. E così fu. Il giorno successivo, 20 settembre del 2003, le forze della Repubblica Separatista si arresero e accettarono che il paese venisse progressivamente occupato dagli azeri. Il resto della storia lo state vedendo in questi giorni. Voi forse ne avete visto anche un passaggio in più rispetto a me quando ho girato questo video. Progressivamente gli azeri hanno riconquistato tutto il resto dell'Artsakh. Kartsakh che ufficialmente scomparirà dalle cartine geografiche il primo gennaio del 2024, ma che già oggi praticamente non esiste più. Nonostante le promesse di risparmiare le popolazioni locali, in realtà gli azeri stanno in tutti i modi possibili favorendo la fuga degli armeni, che così come era successo qualche anno prima nel 2020, stanno abbandonando in massa questi territori, temendo quale sarà la reazione degli azeri. Azeri che ormai la guerra l'hanno vinta sotto tutti i punti di vista, e che lasciano aperto il corridoio di Lakin solo affinché gli armeni se ne vadano. Perché, direte voi, sono gentili nel permetter loro di andarsene? No, stanno benissimo di non poterli massacrare tutti, e ogni armeno che se ne va è un armeno in meno all'interno del proprio territorio di cui doversi occupare. Insomma, è una situazione complicatissima. Arrivano notizie di massacri, arrivano notizie di morti, di ancora scontri, tutte notizie che ovviamente andranno poi verificate nel tempo, perché non stiamo più parlando di storia, stiamo parlando di attualità. Arrivano notizie di scontri, di confine tra l'Armenia e l'Azerbaijan. L'Azerbaijan che forse non ha ancora rinunciato alla sua volontà di obbligare l'Armenia a concedergli un corridoio di collegamento con il Nakchivan, o che forse veramente crede, così come annunciato da Lieve, che un giorno l'intera Armenia sarà annessa dall'Azerbaijan. Insomma, una situazione complessa in divenire che purtroppo dovremmo vedere da che parte andrà. L'unico risultato, e credo che ce lo abbia insegnato ampiamente tutta questa miniserie, è che in quella zona, purtroppo da secoli, da millenni, si combatte e si muore. Lo si continua a fare ancora adesso, lo si continua a fare in nome della religione, del nazionalismo, della popolazione, della propria superiorità, e chissà che la pace difficilmente, temo che la pace difficilmente si riuscirà a trovare. Non la si è trovata nel 94, difficile pensare che la si trovi adesso, e se la si riuscisse a trovare, la si avrebbe pagata con veramente tanto, tanto sangue. Io mi fermo qua. Ho cercato di essere il più schematico possibile, ho cercato di evitare il più possibile i fonti di parte, ma ve lo dico, per quest'ultima puntata è stato difficilissimo. Ovviamente tante cose ve le lascio con il beneficio del dubbio, ve l'ho sempre detto, perché andranno rivalutate a distanza di anni, quando finalmente si riuscirà a capire veramente bene che cosa sia successo in questi ultimi mesi, ma questo ad oggi è il meglio che sono riuscito a fare, e mi spiaceva lasciare questa storia senza una sua conclusione. Io per ora mi fermo qua. È stata una bella avventura, riprenderemo con le miniserie ovviamente dedicate agli stati, il Caucaso lo abbiamo chiuso, per così dire, lo abbiamo raccontato tutto. Credo che nelle prossime torneremo verso l'Africa, probabilmente prima per raccontare Etiopia ed Eritrea, la sto preparando in questo momento, anche se non so se farò subito questo o farò prima altri stati africani, ma vorrei continuare a raccontare di questo periodo. Ad ogni modo, come sempre, un grandissimo ringraziamento ad abbonati, Patreon, chi fa donazioni sul conto Paypal, perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti. In particolare, oggi il mio ringraziamento va ad Angelo Spricigo. Grazie. Grazie mille per il tuo aiuto. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete curiosare tra qualcuna di queste storie, qui a fianco, ce ne elenco delle pillole uscite fino adesso. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto. Ciao ciao.